Nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 gennaio il noto locale a Chiangari, Sansevero, ha preso fuoco. Atto intimidatorio o cortocircuito? Non lo so, non so da che cosa è stato dovuto questo incendio, adesso non so niente, non mi posso neanche esprimere, quindi non lo so, però speriamo solo che sia un cortocircuito, un guasto tecnico. Grazie a tutti.